Ciao ragazzi, oggi voglio farvi vedere i miei preferiti del mese era da un po' che non facevamo un video così però sapete che c'è stata la pausa degli esami e ho voluto tornare alla grande con questo video perché in questi mesi ho accumulato un sacco di cose che volevo farvi vedere, perciò iniziamo subito se non l'avete ancora visto, giù nell'info box vi lascio il video tutorial di questo look che ho appena finito di girare i video tutorial di makeup escono sempre il giovedì non mancate se vi interessa sapere come mi concio con i vari prodotti ma adesso, bando alle ciance, ciance alle bande iniziamo subito con il... questo mese voglio iniziare con il cibo preferito che era da un po' che non vi facevo vedere ma questa volta voglio parlarvi di questi biscotti adesso la confezione è un pochino bassacrata ma non ci fate caso perché li ho mangiati praticamente tutti questi qua sono i frollini bio al farro con preparato ai mirtilli rossiccia ragazzi sono dei biscotti biologici ma in realtà non è questo che ci interessa hanno un profumo assurdo, io li amo, ve lo giuro io li amo, sono troppo buoni questi biscotti se beccate quello pieno di mirtilli sono stra buoni adesso non ce ne sono più perché me li sono già mangiati tutti comunque questi biscottini ve li consiglio se siete patite delle cose naturali ancora meglio poi andiamo avanti sempre per il genere dato che stiamo parlando di cibo restiamo nel settore alimentare questo tè ve l'avevo già fatto vedere in un video spacchettamento e sapevo che aveva una fama che lo precedeva però non mi aspettavo fosse così buono è veramente super saporito sapete che il tè deve essere buono altrimenti sembra di bere un po' il cartone invece questi qui sono dei tè aromatizzati uno è il limone e l'altro è un mix non si capisce bene il sapore comunque qui c'è scritto tè verde ma tè guaranà guaranà io lo adoro tra l'altro e dato che sono sciolti io metto un cucchiaio nell'acqua bollente poi li scolo col colino così non vivevo i residui dato che non ho il distillatore apposta e questo qui me l'aveva regalato Benefit insieme al Porefessional non so se ve lo ricordavate anzi li ringrazio ancora poi passiamo invece all'accessorio del mese che è questa pochettina di Louis Tone questo qua in realtà è un marsupietto ho anche la cinturina lì solo che adesso vabbè mi allungo a prenderla aiuto ci sono ecco questa qui è la cinturina si può usare come marsupietto inserendola qua dentro solo che io la uso come pochette per i trucchi e si vede mi piace perché è della dimensione giusta nel senso che ci stanno dentro diverse cose non è troppo piccola non è troppo grossa e poi è davvero carina quindi è bella anche da tenere in borsa e questa qui me l'ha regalata mia cugina Vania a Natale questo mese invece l'applicazione è un pochino da stalker vabbè non proprio da stalker però un po' si avevo cancellato seguaci più perché alcune ragazze mi avevano detto che faceva scendere tantissimo la batteria e quindi dato che ho problemi con la batteria dell'iPhone l'ho cancellato ho detto vabbè tanto posso anche non star lì sempre a controllare chi mi segue e chi non mi segue su Instagram però ne volevo una che facesse le stesse cose di seguaci più e ho trovato Crowdfire dovrebbe chiamarsi così che tra l'altro è ancora meglio di seguaci più nel senso che ti dice sia chi ti segue e chi non ti segue chi inizia a seguirti chi smette di seguirti ma soprattutto c'è un'opzione in cui voi inserite il nickname di qualsiasi persona e vi dice se quella persona vi segue o meno quindi è fantastico perché se nelle vostre indagini da stalker verso qualche ragazzo volete controllare se vi segue o meno potete semplicemente inserire il suo nome senza dover stargli sfogliare tutti i suoi seguaci ogni volta è una cosa abbastanza malata ma è molto utile e poi una cosa anche carina c'è la sezione ammiratori che vi dice chi sono le persone che mettono più like alle vostre foto quanti likes hanno messo quanti commenti io adesso lascio qui la ragazza che ha messo più likes alle mie foto quindi sì questa è l'applicazione del mese per persone malate come me che vogliono avere sotto controllo tutte queste cose l'altra applicazione del mese invece musical.ly che vabbè di questa ve ne parlerò più avanti magari in questi mesi di canzoni ne ho ascoltate diverse anche perché appunto è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho fatto l'ultimo video preferito e ce ne sono diverse prima fra tutte in assoluto è niente canzoni d'amore di Marrakesh questa canzone per me significa tantissimo ci sono delle frasi che mi piacciono da morire in cui mi ritrovo tantissimo ed è bella è veramente bella vi deve comunque piacere il genere rap italiano se è così io vi straconsiglio di andarla ad ascoltare perché secondo me ne vale davvero la pena a me piace da morire un'altra canzone sempre per il genere rap italiano è Cosa resterà che è una canzone di un ragazzo che ha partecipato a Sanremo rendetevi conto è il caso della vita sapete come ho scoperto sta canzone? in pratica stavo cercando su Spotify Cosa resterà degli anni 80 altra canzone per cui sono assolutamente andata in fissa e Spotify ti fa uscire un po' tutte le canzoni che hanno il titolo simile perciò dopo Cosa resterà degli anni 80 sotto c'era Cosa resterà ed è andata in riproduzione automatico e ho iniziato ad ascoltare questa canzone e ne sono rimasta assolutamente colpita e fantastica per l'abbigliamento vi ho appena fatto un video haul in cui ho acquistato tante cose e sapete che quando compri qualcosa le tue cose preferite che ti piace mettere di più sono quelle nuove quindi generalmente sono quelle che vi ho fatto vedere nell'ultimo video haul settimana scorsa però in particolare tra tutte le cose che ho acquistato questi pantaloni sono i miei preferiti questi sono i pantaloni di Bershka che vi avevo fatto vedere e sono quelli tutti squarciati con la parte finale mangiata dal cane diciamo così e mi piacciono tanto perché come vi dicevo fanno un bel sedere e fanno le gambe belle snelle poi Bershka di solito ha due qualità dei jeans quelli che costano sui 17-20 euro che sono un po' più scarsi si lasciano andare e poi almeno a me cadono sempre e poi ci sono questi qua che costano sui 35-40 euro che invece sono di un materiale migliore e quindi non si lasciano andare e resistono di più e adesso passiamo ai prodotti di make up in questo periodo sto provando tante cose nuove ma le cose che vi farò vedere secondo me qualche video tutorial le avete già intraviste non posso non partire da queste tinte labbra che sono state diciamo assolute protagoniste nel tutorial di Kylie Jenner me le hanno inviate quasi tutte tranne una che l'ho acquistata perché non ce l'avevo ed è proprio quella che ho usato nel tutorial ed era la 09 che qui non ho perché ce l'ho avvollate sono fantastiche queste tinte labbra sono super a lunga tenuta durano tutto il giorno l'unica cosa che se mangiate al centro vengono un po' via però dato che il contorno rimane perfetto è giusto qui al centro e le labbra basta ripassarle un attimo e non succede niente seccano tanto le labbra e ok correggerle un po' però non andate a riapplicare troppe volte il prodotto altrimenti crea spessore e secondo me dà un effetto fastidioso sulle labbra però sono veramente ottime c'è da dire che per toglierle bisogna usare assolutamente l'olio e si fa anche un po' fatica però almeno non vanno via non si sbavano durante il giorno sono veramente a lunga tenuta poi andiamo avanti un altro prodotto che mi piace davvero tanto e non me l'aspettavo anche se ne ho sempre sentito parlare molto bene che è l'all in one mascara di Debbie è quello col tappo fucsia e guardate adesso ho sulle ciglia finte in effetti non si vede comunque nel tutorial che ho girato non avevo ancora applicato le ciglia finte e si vedeva che fa un effetto veramente assurdo lo uso in combo con Roller Lash di Benefit ma anche questo da solo allunga veramente tantissimo l'unica cosa che non fa è che non volumizza più di tanto però in teoria è un mascara penso solo allungante ah no dice anche volume non le volumizza più di tanto però veramente le allunga che sembra che avete un palo sulle ciglia per le sopracciglia invece ho cambiato un po' la mia routine ultimamente sto usando la Brow Divine io la uso nella colorazione Jupiter e poi le vado a pettinare a schiarire leggermente con il gel fissante colorato di Benefit si chiama Gym Brow Gym cosa vuol dire Gym? dura davvero tantissimo cioè finché non la vai a rimuovere non viene via e ha una mina veramente sottile che forse ha solo MAC e Anastasia Beverly Hills che io sappia io non avevo mai provate di matite fatte così e mi ci sto trovando bene anche se nel mio cuore rimane sempre la di Brow Pomade di Anastasia questa è un'ottima ottima alternativa neanche farlo apposta adesso che ci penso anche quest'altro prodotto è di Nabla questo qui mi piace da morire nel senso che è un ombrettino super glitterato io non ho mai provato un prodotto così tanto glitterato assurdo super luminoso però ha una grandissima pecca nel senso che si frantuma già adesso vedo i pezzi che vagano si frantuma io non so non riesco a capire perché infatti non lo porto più in giro perché l'ho ricompattato dopo averlo portato in giro nel mio beauty semplicemente come tutti gli altri prodotti appena lo muovi un minimo fa pezzi cioè non capisco perché probabilmente c'è qualcosa di sbagliato nella formula è un prodotto ottimo a livello di performance niente da dire però non è tanto pratico perché se lo portate in giro se anche voi fate avanti e indietro con i trucchi da una parte all'altra da una casa all'altra non ve lo potete portare in giro altrimenti si rompe ultimo prodotto che ho da farvi vedere invece è questo fondotinta di Maybelline il Dream Satin Fluid che ho iniziato a usare da due settimane lo uso tutti i giorni mi piace ha un bel effetto sul viso ha una buona coprenza senza essere pesante che secondo me è la caratteristica principale lunga tenuta e buona coprenza senza essere pesante sulle caratteristiche che cerco io in un fondotinta perciò ragazzi questi erano i prodotti le cose che sto usando preferendo io in questo periodo spero che il video vi sia piaciuto se è così lasciatemi un pollice in su e se non siete iscritti iscrivetevi cosa state aspettando vi mando un bacione ci vediamo al prossimo video ciao ciao